Jim Rohn, 7 strategie per la ricchezza e la felicità. Oggi a grande richiesta riporto qualche nuovo spunto da questo bellissimo libro di Jim Rohn perché è un libro a mio avviso stupendo che fa riflettere tantissimo. Oggi leggo il capitolo numero 5, meglio il primo paragrafo di questo capitolino, intitolato La strada della saggezza e leggo Una delle strategie fondamentali per condurre un'esistenza adeguata consiste nel sapere quali sono le informazioni che ci servono per conseguire i nostri scopi. Una volta che sappiamo che cosa dobbiamo sapere, è utile sapere anche come raccogliere tali informazioni. Una delle cose più importanti che il signor Shoah ha fatto per me quando ero giovane è stato di infondermi il valore dello studio. Diceva, se vuoi avere successo, studia il successo. Se vuoi essere felice, studia la felicità. Se vuoi fare soldi, studia come conquistare la ricchezza. Chi acquisisce queste cose non lo fa per caso. Si tratta prima di tutto di studiare e poi di mettere le cose in pratica. Sapresti indovinare quanta gente fa della ricchezza un oggetto di studio? Esatto, molto poca. Considerati numerosi uomini e donne che ricercano la ricchezza e la felicità, si sarebbe indotte a pensare che ne facciano un accurato oggetto di studio, giusto? Il motivo per cui invece non lo fanno è un altro di quegli argomenti che è classifico nella particolare categoria dei misteri della vita. Questo breve paragrafo di Jim Rohn, a mio avviso, davvero raccoglie una verità talmente banale quanto però reale. Nel senso che tantissime persone vorrebbero qualcosa dalla vita, hanno dell'ambizione, hanno dei sogni, ma non fanno nulla per raggiungerli, nemmeno informarsi come fare per riuscirci. Forse perché li ritengono impossibili, forse perché non sanno da dove iniziare, non importa. Il fatto sta che nessuno fa nulla e ovviamente poi questi obiettivi non saranno mai raggiunti. Se dirigiamo la nostra attenzione nel mondo dello sport e prendiamo un qualunque sportivo tra i migliori al mondo, lui avrà fatto di quello sport praticamente la sua ragione di vita. Si sarà impegnato in tutti i modi possibili per eccellere in quel specifico settore. E quando guardiamo determinati ambiti della vita come appunto uno sport, è molto facile immaginare una sorta di causa-effetto. Quindi io mi alleno, miglioro, allenandomi tantissimo, migliorerò ancora di più, allenandomi all'inverosimile e più di chiunque altro potrò diventare migliore di chiunque altro. Però applicato ad altri ambiti della nostra vita, questa cosa viene ignorata completamente. Jim Rohn fa riferimento alla felicità e alla ricchezza. Quindi tantissime persone cercano la felicità e la ricchezza, ma pochissime persone, veramente una parte irrisoria di queste, si mette davvero di impegno a cercare di studiare, a riprire informazioni per cercare di risolvere questo problema, ovvero raggiungere i loro obiettivi, essere più felici o guadagnare di più, fare più soldi. E oggi voglio solo chiederti questo. Tu stai facendo come suggerisce Jim Rohn? Ovvero, rileggo questo pezzettino perché merita. Il primo passo consiste nel sapere quali sono le informazioni che ci servono per conseguire i nostri scopi. Tu stai cercando informazioni relative a quello che vuoi fare? Relativo all'obiettivo che hai intenzione di raggiungere? Se la risposta è no, la prima cosa che dovresti fare è proprio questa. E poi continuo scrivendo. Una volta che sappiamo che cosa dobbiamo sapere, è utile sapere anche come raccogliere tale informazione. E il passo successivo è proprio quello. Quindi prima dobbiamo scoprire cosa ci serve sapere, poi dobbiamo scoprire come fare ad avere accesso a quella conoscenza. Una volta fatti questi due passi, Jim scrive che, come è ovvio che sia, la differenza starà solo nella messa in pratica. Quindi prima dobbiamo capire cosa ci serve, poi riuscire a venire a conoscenza di questa informazione, e poi iniziare a lavorare, ovvero a metterla in pratica. Mi auguro che sia una cosa che già state facendo, altrimenti iniziate subito a mettervi in moto sotto questo aspetto, perché se avete intenzione di raggiungere degli obiettivi e li avete ben chiari, sapere come fare, come raccogliere le informazioni, poi passare alla pratica, sarà l'unica cosa che vi distanzia dal loro raggiungimento. Per cui passate subito all'azione, studiate o informatevi per sapere di cosa avete bisogno. Con questo è tutto, se avete trovato tutta questa pillola, cliccate mi piace e condividete. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, questo libro, 7 strategie per la ricchezza e la felicità, è un libro che si legge veramente in un attimo, perché è un libro di pochissime pagine, 150 pagine, scritto anche piuttosto in grande, quindi si legge in un mezzo pomeriggio, veramente in due pomeriggi lo leggete con un filo di gas, ma ci sono tante informazioni molto molto importanti. A volte possono sembrare banali, perché uno dice, ma certo, è ovvio, ma è talmente ovvio che non ci si pensa e di conseguenza non si fa quello che si dovrebbe. Sembra stupido, ma purtroppo è così. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!